Altra tegola per il comune di Brindisi sul fronte dei rifiuti costretto a fare i conti con una lievitazione dei costi per lo smaltimento sia per la parte differenziata che per quella indifferenziata. Gli aumenti si riferiscono al conferimento in impianti al di fuori della provincia non essendoci strutture del Brindisino. Per questo l'amministrazione ha dovuto fare ricorso ad una variazione urgente al bilancio di previsione finanziario per il 2024-2026 per 3 milioni e mezzo di euro solo per il primo esercizio. La manovra è stata deliberata dall'Aggiunta appena in caso contrario così come si legge nella relazione l'impossibilità di conferire gli stessi presso gli impianti con evidente e chiaro rischio sanitario. A Brindisi resta chiusa la discarica comunale di Autigno sito per il quale il comune ha approvato un progetto per la messa in sicurezza che prevede una serie di interventi finalizzati alla riapertura di alcuni lotti. La richiesta sarà inoltrata alla regione Puglia. Per l'altra discarica quella di proprietà della società Formica Ambiente prosegue l'iter amministrativo di autorizzazione per l'ampliamento rispetto al quale resta il no di alcuni comuni oltre che delle associazioni ambientaliste. Gli uffici di palazzo di città intanto sono a lavoro per il bando decennale che il comune potrà pubblicare da solo essendo stato riconosciuto come nuovo ambito di raccolta aro dalla Giunta regionale lo scorso 31 luglio tenuto conto delle necessità che presenta il capoluogo per il conferimento dei rifiuti differenziati. L'obiettivo è riuscire ad abbattere la Tari. Per arginare i fenomeni dell'abbandono incontrollato dei rifiuti e dell'irregolare conferimento in violazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze l'amministrazione ha deciso di potenziare i controlli affidandoli agli ausiliari ambientali. Figura non nuova essendo prevista nel regolamento comunale che risale al 2017 assieme a quella dell'ispettore. Figure fino ad oggi rimaste sulla carta. La Giunta ha introdotto la possibilità di assegnare le funzioni ai volontari di associazioni iscritti al registro nazionale del terzo settore e all'albo del ministero dell'ambiente così come al personale in pensione proveniente dalla polizia locale per lo svolgimento delle attività di vigilanza ambientale. Gli ausiliari saranno individuati dal sindaco dopo il superamento di un corso di formazione. Sarà lo stesso comune direttamente oppure tramite organizzazioni di volontariato ad organizzare le lezioni senza alcun impegno di spesa a carico del bilancio di Palazzo di Città.